La collaborazione con Accor Hotel parte dal 2004, è una collaborazione che è davvero proficua sia per Immagino IUM sia per Accor Hotel. Diversi ragazzi e ragazze hanno avuto poi la possibilità di essere assunti nella nostra azienda. È fondamentale unire quelle che sono le attitudini delle persone, le competenze specifiche che l'università, i master e l'azienda stessa possono fornire poi ai ragazzi e le ragazze che parteciano ai corsi. Da noi è fondamentale la capacità di porre sempre, di considerare il cliente al centro di ogni attività e quindi anche le attitudini, le competenze si costruiscono secondo questa visione. Importante oggi nel nostro mondo quelle che sono le capacità e le conoscenze legate al mondo del digitale, la capacità di interagire e di rapportarsi, di porsi in relazione con gli altri. Quando si lavora in una dinamica di gruppo all'interno di una struttura alberghiera o nei confronti del cliente, ovviamente la capacità di interazione con gli stessi è fondamentale. E la capacità anche di lavorare in squadra, che è un aspetto fondamentale che non sempre si trova nei giovani.